...i campanelli. Per me quello Cimarci è un dritto. No, poverino, penso che non mi ha nemmeno voluto baciare. Lo vedi che è un dritto? E l'America? E prenda delle strade che non sono illuminate, perché non voglio essere visto. E c'ha ragione. Tax. Presto, insegua quei due tax. Ma con me dentro, eh? Dato quel signore. Sesto piano, appartamento 603. Presto, nasconda questo. Perché? Col cappotto mi riconoscerebbe. Cielo che smiccio, i baffi di ciccio. Sì, ferigrafo, calpurnio, messa lì. Hai fatto un miracolo. Finalmente ti ho sorpreso e inflagrante. Questa volta Rosa Spina saprà tutto della tua infedeltà. E lei, Rosa... Eh, tu? Ma non mi fare ridere. Rosa Spina è più brutta di ciccio. Se è mai più brutta di te. Comunque la smetta di cialiare e mi lasci libero il telefono. Sono felice, sorollina mia, felice per te. Ma ce non toglie che quest'uomo ignaro di plastica che ha tentato di tradirti. E il gioco è fatto!